Questo Natale siete tutti invitati a passare le feste con la più divertente famiglia allargata che vi sia mai capitato di incontrare. Sarà un Natale speciale, pieno di gioia, di amore, di regali, ma soprattutto pieno di quella cosa meravigliosa che non ci abbandona mai per tutta la vita. I parenti. La mia mamma è mio papà, Francesco. Giulio è il papà. Francesco non ha il braccio destro, ha avuto un incidente, ha una protesi. Vabbè, sono Giulio e papà. Veramente ho perso anche il sinistro. Vabbè, pazienza, dai. Sì, ciao. Piacere. Benvenuto. Indovina chi viene a Natale. E lui è Domenico, il mio nuovo fidanzato, mia madre. Lei che problemi ha? A parte quelli estetici. Mamma è nostra e tu devi sparire. Io amo i bambini, non li strangolo. A sposarmi? Sì. Un brindisi. Ti abbiamo detto che se Valentina è felice, siamo felici anche noi. Siamo felici? No. Io e Valentina abbiamo fatto fuoco e fiammo. Abbiamo fatto di cotto, di crudo, di bollare. Hai capito? Ciao, Dio, ciao. Ciao. Ma dovevamo proprio invitarle? Io sarei Antonio. Sono il fratello post-datato. Mi hanno detto che sei maestro di scuola elementare. Esatto. E tu? No, io no. Posseggiatore. Abusivo. Sì. No, abusivo. Sbrigati, per favore. Non me la sto facendo sotto. È Natale di merda.